Dopo le dimissioni del primo cittadino Pierluigi Biondi, sono arrivate immediate le reazioni. Su tutti, quella del sottosegretario alla ricostruzione, Vito Crimi, che ha dichiarato Biondi non dia colpi al governo, settimana prossima arriveranno ai fondi per il bilancio e aggiunge accolgo con dispiacere la notizia delle dimissioni del sindaco Pierluigi Biondi, ma lo invito a non scaricare sul governo responsabilità che non ci appartengono, perché due giorni fa ho personalmente garantito al primo cittadino che la prossima settimana sarà varato il decreto sisma, il quale prevede il finanziamento di 10 milioni di euro a copertura delle minori entrate del comune aquilano. Crimi aggiunge pure, spero che la scelta del sindaco non sia una scusa per nascondere i problemi di maggioranza interna all'amministrazione locale. In una lunga conferenza stampa, Biondi ha parlato principalmente di questo problema dei fondi per il bilancio, ma ha anche accennato alla politica locale, invitando un po' tutti al senso di responsabilità. Manca entusiasmo in comune, così ha detto Biondi, incassando la solidarietà di alcuni e le critiche di altri. Fratelli d'Italia, ad esempio, ha detto, ribadiamo fiducia e sostegno al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e condivisione per il lavoro svolto. Fratelli d'Italia augura che le forze portitiche locali e che il governo nazionale mostrino nel momento così delicato già tratteggiato il senso di responsabilità auspicato del primo cittadino. Ma di tutt'altro tenore sono le reazioni dell'opposizione. Articolo 1, ad esempio, parla di false dimissioni e di ennesima vergogna. L'Elio De Santis, del gruppo Cambiare insieme Italia dei Valori, parla di un atto politico comprensibile, ma più per tacitare le divisioni nella maggioranza di centrodestra che per ottenere i 10 milioni per il bilancio. Infatti, De Santis ricorda che il Consiglio Comunale scorso è stato disartato dai consiglieri di maggioranza per ragioni politiche interne. Durissima coalizione sociale. È ora che questa città venga amministrata come si deve. Il primo cittadino deve impegnarsi a farlo rapidamente. È stato votato per questo obiettivo e non per altro. Non ci sono più alibi né giustificazioni. La città va finalmente governata in modo adeguato. Sacrosanta la richiesta dei fondi per il bilancio, dice coalizione sociale, ma che l'ex sindaco si nasconda dietro il loro mancato trasferimento da parte del governo è evidentemente solo una vergognosa sceneggiata, tant'è vero che il sottosegretario Crimi, principale responsabile di questa situazione, ha speso persino parole di stima e fiducia. Del resto, che abbia poca voglia di governare la città, è stato lampante già con il maldestro tentativo di candidatura a presidente della regione. Così facendo, paralizza la ricostruzione. Non si risolvono i grandi e piccoli problemi che attanagliano il territorio.